11 ottobre, notte bianca, qui al Vomero, ormai un evento consolidato nel quartiere. Stiamo nel locale Anemos Caffè e Pasticceria in compagnia di Luigi, a cui chiediamo che cosa ne pensa di questo ormai consolidato evento? Un evento che secondo me fa molto bene al commercio napoletano. No, fortunatamente ho visto che quest'anno vi è restito anche qui da noi, perché fino all'anno scorso abbiamo fatto solo da spettatori. Quindi spero che quest'anno si possa ancora prolungare questo evento e quindi consolidare sempre di più il gap positivo della notte bianca. Perfetto, e allora Luigi chiediamo che cosa può suggerire per migliorare ancora questo evento? Sarebbe opportuno fare proprio una zona pedonale partendo dall'incrocio qui di Santa Maria della Libra che proseguirà fino alla via Scarlatti. Luigi offrira qualcosa ai suoi clienti in questa notte ormai? Una delle graffe a fotte al momento con una frigirice esterna. Perfetto, allora tutti qui a mangiare una calda graffa in via Cilea nel locale di Luigi, Anemos Caffè e Pasticceria.